Si sono sfidati ad una folle velocità per le strade del Casentino per contendersi una ragazza, ma alla fine le due auto si sono scontrate e per due giovani è scattata la denuncia. La bravata, che adesso costerà cara ad un 25enne e ad un 23enne, è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorsi ed è stata scatenata da una lite sentimentale per contendersi appunto una giovane. La gara di velocità è terminata quando le due auto si sono scontrate in località Castelnuovo di Subbiano. Intervenendo sul posto, i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti e cioè che subito dopo la gara uno dei due ragazzi ha imposto alla giovane di salire sulla propria auto e poi nel tentativo di entrare nell'auto del contendente è stato scaraventato a terra per la veloce ripartenza di quest'ultimo che poi si è dato alla fuga. Il ragazzo caduto è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo, per lui dieci giorni di prognosi. I carabinieri hanno così sequestrato le auto e denunciato entrambi i ragazzi perché è vietato gareggiare strada in velocità con veicoli a motore. Inoltre uno dei due è stato denunciato anche per omissione di soccorso e fuga, mentre l'altro per violenza privata.